Valvasto Girardi il derby dell'altissimo Molise, la squadra di Farina protagonista di una prima mezz'ora che ha rasentato la perfezione con pressing alto e palla a terra. Giallo-blu in campo col 4-3-3 senza alcun timore reverenziale per la prima assoluta in un campionato interregionale. Stesso modulo per l'agnonese di Mauro Marinelli che smesse i panni del poliziotto torna in panchina per regalare ai suoi una salvezza in scioltezza. Granata bene nel palleggio ma Bulici sottoporta complice il baby portiere degli ospiti, sempre attento. Pronti via e il vasto Girardi passa, Ballerini si fa girare da Petrone, entra con vehemenza, un po' piedi, un po' palla, rigore dubbio. La pensa diversamente Barbiero della sezione di campo basso che indica il dischetto dagli 11 metri Chiere Mateng, la piazza dove Kuzmanovic non può arrivare. Gli ospiti sono tosti dietro con Ruggeri che ha trovato in Mikhailovsky il gemello perfetto. E così l'agnonese si rende pericoloso solo con piazzati e conclusioni dalla distanza. Peic, minuto 25, scalda i guantoni di Capraro. L'episodio da Moviola, il primo di una lunga serie alla mezz'ora. Ancora Peic, punizione velenosa da posizione impossibile. Capraro forse respinge quando la sfera ha già varcato la linea di porta, gol non gol, l'assistente non interviene, si continua a giocare. Tra le proteste ancora un piazzato per i locali, questa volta con Viscovic ancora un nulla di fatto. Si va negli spoiatoi con l'agnone in svantaggio sotto gli occhi del manager Rocco Sabelli, AD di Sport e Salute, ex patron dei Granata, insieme al fratello Maurizio Sabelli, direttore sportivo degli Anni d'Oro. Con loro corra d'Urbano, ora al Cassino, prossimo avversario, domenica, del vasto Girardi per il primo turno della manifestazione tricolore. La ripresa, subito un altro episodio da Moviola. Percovic gonfia la rete, ma è in fuori gioco. Gli animi si surriscaldano, Marinelli e Farina vengono allontanati dal direttore di gara. Ci stavamo chiarendo, non è successo nulla, dicono a fine gara. Ancora una bandierina alzata, al sedicesimo, Acosta trova la rete ma parte davanti all'avversario. Altro episodio dubbio contestato dai locali, girandola di sostituzioni. Farina getta nella mischia l'ultimo acquisto grazioso, oltre a Corbo, Monteduro, Di Mauro e Daguano. Marinelli si gioca le carte con E ed Elefante. Il presidente con la Izzo soffre a bordo campo, dietro le transenne, ma il pari non arriva nonostante il forcing di Nicolao. Lui sì, che è un giocatore vero, è il solito Peic, il migliore dei suoi con Capraro. Sempre attento al triplice fischio, i nervi sono a fior di pelle, ma gli applausi di entrambe le tifoserie aiutano a rasserenare gli animi a coronamento di una prestazione che ha soddisfatto il pubblico di due squadre che puntano alla salvezza e a giocare un calcio gradevole. Grazie a tutti.